Quote fisse sul campo, eleggono favorito Kaed, anche se leggera salita, da 4.50 adesso 4.75, rimane stabile a 5 musicante, 6 curandero, questi sono quelli con quota più bassa, rende l'idea dell'incertezza della corsa. Play the break è quella che sta creando qualche grattacapo ai suoi uomini, adesso c'è un ulteriore tentativo con il cappuccio. E alla fine anche play the break prende posto, ci siamo. Per la partenza della quarta corsa si apre le gabbie, partiti, cavalli della quarta, la prova GR del pomeriggio, play the break, che parte bene, anche musicante, l'altro che coglie una buona partenza, Sicilian Focus in terza corsia, l'altro che ha colto un buon break, dietro a questi la seconda linea è formata dall'interno verso l'esterno da Kaed, poi Big Gina, curandero, wake gold, all'interno c'è anche old suite in coda a tutti Milano Sanremo. Gruppo è ben compatto, a parte l'ultimo, va così ad affrontare la prima parte della curva, nessuna variazione, con play the break e musicante che galoppano in coppia. Alle loro spalle ci sono Kaed, ancora Big Gina, Sicilian Focus, poi old suite, curandero, wake gold, percorsia ancora più esterne, Milano Sanremo. Siamo così all'ingresso e addirittura d'arrivo, con musicante che continua nella sua pressione rispetto a play the break, Sicilian Focus che va per corsia esterne, sembrerebbe in questa fase il più minaccioso. Dall'interno Kaed, ancora non richiesto, poi Big Gina, old suite, curandero, wake gold, Milano Sanremo, c'è un ampio ventaglione con Sicilian Focus che adesso ha rotto gli indugi, a 300 al traguardo, prova ad allungare decise, così è, al paletto dei 200 è ben saldo in evidenza Sicilian Focus, ci prova wake gold nella rincorsa, ma ormai è tutto fatto per Sicilian Focus che vince da lontano, regalandosi una bella soddisfazione per il secondo, terzo e quarto sono vicini musicante Kaed e wake gold. Nessun dubbio sulla vittoria di Sicilian Focus, quinta affermazione in carriera per il figlio di Angiall con Angelo Crocicchia, per Mario Crocicchia ed Angelo Crocicchia, sei al primo posto, vediamo per il secondo se lo stretto ci dà qualche certezza in più, nove era la quota conclusiva per Sicilian Focus, vince il numero sei dello schieramento, almeno sei barra sette lunghezze di margine, vediamo un po'. Per il secondo, terzo e quarto, eh sì, secondo me wake gold, musicante e Kaed nell'ordine, ma bisogna attendere il verdetto del giudice d'arrivo, per la quarta da capanella è tutto. Grazie.